ciao a tutti oggi prepariamo un gustosissimo piatto unico una bella pasta con cozze e pomodorini vi do gli ingredienti per due persone 250 grammi di cozze che puliremo bene anche 250 grammi di pomodorini se vi piace dell'aglio qualche foglietta di prezzemolo mezzo bicchiere di vino bianco un cucchiaio di concentrato di pomodoro mezzo cucchiaino di brodo granulare di verdura se vi piace un pochino di aglio in polvere e sempre se vi piace del pepe nero macinato e infine ma non per ultimo lui il nostro ingrediente segreto procediamo ma prima vi ricordo che la lista completa degli ingredienti è qui sotto basta cliccare su altro nella descrizione e vi invito a cliccare sulla campanella e ad iscrivervi al mio canale è gratis così non vi perderete neanche una ricetta procediamo puliamo bene bene le cozze togliendo il bisso e pulendo bene i gusci tritiamo il prezzemolo e l'aglio al lavoro prendiamo una padella a fonda antiaderente mettiamo le cozze aggiungiamo l'aglio io ne aggiungo parte intero e parte a pezzettini aggiungiamo anche i pomodorini aggiungiamo il brodo granulare di verdura se vi piacciono anche l'aglio in polvere e il pepe nero aggiungiamo anche il concentrato di pomodoro metà vino bianco e lui il nostro ingrediente segreto e foca le polveri e mentre aspettiamo che le cozze si aprano mescoliamo spesso e facciamo evaporare il vino nel frattempo mettiamo a cuocere la pasta al dente se amate il piccante potete aggiungere del peperoncino vi sta che è una meraviglia tenetela veramente al dente la pasta perché poi finiremo di risottarla in padella un consiglio il sale nell'acqua della pasta mettetelo solo un minuto prima di scolarla non ci perderà il gusto ma ci guadagnerà la vostra linea e la vostra salute aggiungiamo la pasta al dente aggiungiamo il vino rimasto e finiamo di risottare in padella mescolando spesso a fuoco alto schiacciate qualche pomodorino in modo che il sughetto diventi un pochino più consistente aggiungiamo il prezzemolo adrettato e serviamo ed ecco impiattato il nostro fantastico e saporitissimo piatto unico e a questo punto svelerò l'ingrediente segreto è una scatoletta di tonno al naturale da 80 grammi che darà veramente più consistenza alla nostra fantastica portata a questo punto aggiungiamo solo un cucchiaino di olio extravergine di oliva e buon appetito e mi raccomando condividete la ricetta con chi ha bisogno di perdere peso ma non vuole fare troppa fatica ciao al prossimo video